Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili, chi difenderà? Gormiti! Ciao bambini e bentornati al Gormiti Show! Oggi siamo direttamente qui nello store di Giochi Preziosi! Sì, vi aspettiamo alle 17, qua per incontrarvi dal vivo! Finalmente, io non vedo l'ora! Anche io non vedo l'ora, così oggi ci sfidiamo, e a proposito di sfide Giada, ci sfidiamo anche in questo momento! Ci sto, però nel mio modo Johnny! Va bene, nel tuo modo! Ci porterà le bustine Federico! Ciao Federico! Ciao! Mi raccomando, è la bustina fortunata! Anche per me, perché l'altra volta mi hai fatto perdere Federico! Non è vero! Come no? Sì, ho perso! Non è stato colpa sua, è che tu bari di solito! Non è vero! Sì, oh! Oh! Oh, perché dici oh? Allora! Grazie! Che vuoi? Sono curiosa di vedere cosa hai trovato! Grazie Federico! Allora, ho trovato, sei pronta? Sì! Vulcan! Ma in chi ho trovato Vulcan? Dai! Ok, 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 ok! Sulla card Giada? Lo diciamo insieme? Magari è lo stesso? Penso che non è lo stesso! Due, uno! Il numero otto! Anche tu? Ah! Qua a darmi pari, eh! A darmi pari! E sotto al piede che numero hai trovato? Dammi il tuo Vulcan che io ti do il mio! Qua! Ma è lo stesso numero! È il numero tre! Vedi? Allora siamo pari! Oh, vedi? Questa cosa è meravigliosa! Vabbè, dai, così può andare! È meravigliosa! Almeno non ho perso! Oggi vi aspettiamo qui alle 17, allo store di giochi preziosi, in piazza Duomo a Milano! Assolutamente non potete mancare, perché ragazzi è grandissimo, veramente ci incontriamo! Esatto, vi vogliamo in tantissimi così ci sfidiamo anche dal vivo, va bene? Ok, adesso Giada, io vado un attimo là che ho visto un Lord Electrum che mi piace particolarmente! No, Johnny, dobbiamo tornare subito in studio perché abbiamo tantissime cose da fare! Poi alle 17, torniamo qui e incontriamo i nostri amici! Ho capito, ma anche qui adesso abbiamo tantissime cose da fare! Ma le facciamo dopo, andiamo in studio! Andiamo! Wow, gli stretch! Sì, guarda! Sono miei! No, Johnny, non è giusto! Sì, che è giusto ed è giustissimo! No! Sì, perché questo è un patto che avevamo fatto l'altro ieri quando avevamo detto... No, nessun patto! Sì, tu hai detto che... No, ora è uno! Tu hai detto che volevi le bustine quelle nuove, io ho detto che prendevamo gli stretch, tu hai acconsentito... Non è vero! E adesso che hai acconsentito... No, Johnny, ascolta, ascolta! Ma tu dici sempre che sei bravo, che sei gentile, che mi fai i regali... Ascoltami! Però se fai così non sei tanto bravo e gentile, sei cattivo! Almeno uno, dai! Se no non possiamo giocare insieme! Diteglielo, bambini! Va bene, Giada, va bene! Non farmi pesare le cose, però! Dai, uno! Posso sceglierlo? Solo perché ci volevo giocare io questa volta con tutti e tre non significa che io non sia gentile! No, non è vero! Perché tu li hai presi tutti così e neanche mi hai detto... Ne voglio... Allora, se indovini quello che ti do adesso è quello che... Quello che vuoi... Allora, se quello che vuoi... Sei un po' confuso! Se quello che vuoi e quello che ho in mano, lo avrai! Ok! Avete capito? Cioè, se quello che lei adesso dirà è quello che io ho nella mia mano... È mio! Sì, però solo se è quello che vuoi! Certo! Ok! Sei pronto? Sì? Titano! Ta-da! È mio! Ma... Ma non è giusto! Avevo fatto lui! Com'è possibile? No! Allora, non volevi darmelo! Sì, che volevo darmelo! Dai, giochiamo insieme allora, guarda! Ok! Guarda come si allunga il mio titano! Wow! Perché sì, abbiamo titano, abbiamo Eklos e Lord Saul! Guardate un po' come diventano gomme! Sì, perché allunghi la testa! Aspetta, facciamo una cosa, guarda! Io tiro questo, tu tiri questo... E? E... Ci attorcigliamo tutti mesi! Mi sono... Ah! Aiuto! Ok, bambini! E forse è arrivato il momento di roba che cagormizia, sai! Forse è arrivato il momento che possiamo andare avanti! Andiamo! Ora è arrivato il momento della... Bacheca Gormitica! Però, Johnny, c'è una cosa importantissima da ricordare ai nostri amici! È la cosa che accade oggi? Sì, esatto! Tra pochissimo staremo allo store di giochi preziosi in piazza Duomo a Milano! Per incontrarvi dal vivo dalle 17 alle 18! Mi raccomando, in tantissimi vi aspettiamo! E se noi abbiamo il nostro anche iWatch che ci dice l'orario, perché non possiamo ritardare! È vero, questa volta sopra la vera! Seguiteci anche in live perché noi continueremo a farle online con i bambini che abitano lontano possono iscriversi a Gormitishow.com per fare le live insieme a noi! E ci sono tutte le istruzioni! Ora, prima di scappare già da una donna di contare i bimbi, abbiamo Pablo e Josué! Che ci hanno mandato due super foto! Allora, Pablo è bello fiero di avere la sua arma di Gormiti! Guarda, come li ha schierati tutti per la battaglia! La sua armata è così, così, tutti... Lui li comanda! Lui è così bello lì dietro! E poi abbiamo Josué che invece ha una posa un po' più, no? Sì, lui è in mezzo di Gormiti invece! Di riflessione! È vero, è vero! Di riflessione, di riflessione! Bravi ragazzi, grazie bambini! Continuate a mandarci tutto il materiale possibile! A Gormiti Show.com! Vada! Le Watch dei Gormiti! Manca poco, manca poco! Andiamo! Allora li salutiamo! Vi aspettiamo tra pochissimo, eh, mi raccomando! Un saluto da Giovanni! E Giada! Ciao! Vai, vai, vai! Andiamo a andare, vai, veloce! Vi aspettiamo! Grazie a tutti.